Come stanno andando alcuni dei grafici macro relativi all'analisi dei sistemi finanziari che influenzano anche i mercati delle cripto? Bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, andiamo oggi a vedere ragazzi una serie di grafici che non vediamo da qualche settimana e cioè tutti quei grafici che vanno ad influenzare il mercato delle cripto in maniera indiretta, ad esempio l'indice del dollaro americano e poi quelli che sono anche i grafici di spread e perché no andremo a guardare anche la dominanza di bitcoin, la total market cap insomma un video che analizzerà quelli che sono i grafici macro, i grafici un po' di lungo periodo che ci danno una visione un po' complessiva di quella che è l'attuale fase, fase di difficoltà per il re delle criptovalute ma non solo perché le altcoin in generale, le criptovalute in generale stanno performando anche molto peggio di bitcoin, quindi in realtà una fase di riposo per i mercati cripto è iniziata, una curva nuovamente discendente questo è un po' forse il pericolo di questa fase e un po' questa fase stessa ha lasciato il dubbio ragazzi che effettivamente non siamo riusciti un po' a superare quelli che erano alcuni dettagli e cioè la questione legata al superamento dei livelli top di bitcoin, dei livelli di esistenza principali ma non è detto anche l'ultima speranza perché in realtà questa è una fase di trading range dove al momento bitcoin sta un po' riflettendo ci sono prontissime situazioni un po' delicate ragazzi che lasciano sempre un po' ragionare come questo mondo è sul filo del rasoio la politica della SEC che sta andando a cercare di regolamentare quelli che sono i mercati delle cripto ma non si capisce se vuole regolamentarli effettivamente per rendere un po' tutto meno rischioso o semplicemente perché vogliono un po' agire come titaniche, come iceberg ma più che titaniche cioè tentando di affondare proprio questo mercato dall'interno non sono stati in pochi quelli che hanno ragionato così tant'è vero che anche il CEO di Kraken qualche tempo fa aveva tirato giù un po' questa idea che effettivamente può essere utilizzata è un periodo quindi dove siamo sempre sul filo del rasoio ragazzi ma abituatevi a questo per quanto riguarda tutti i mercati finanziari nel complesso perché sono sempre sul filo del rasoio io da quando sono e opero sui mercati sono passati veramente tantissimi anni ragazzi non ricordo mai un anno dove non si era sul filo del rasoio va bene, detto questo iniziamo con il grafico DYDX l'indice del dollaro americano, moltissimi hanno ragionato sul fatto che quando l'indice del dollaro americano sale i mercati in generale finanziari stentano a fare nuovi massimi entrano in una fase di congestione è un po' la questione dell'uovo oggi o gallina cioè prima l'uovo prima la gallina cioè ragazzi quando noi andiamo a valutare i mercati come bitcoin ad esempio e gli asset finanziari che sono quotati in dollari cioè noi li valutiamo in dollari se il valore del dollaro sale rispetto alle altre valute ovvio che anche gli altri asset che sono valutati in dollaro teoricamente scendono anche se dovessero salire comunque lo farebbero in maniera poco imponente in quanto comunque il valore dell'asset sottostante cioè che li prezza in sostanza quindi il dollaro è salito quindi già teoricamente in termini di beni reali o di altre valute valgono un po' di più più che di altri beni reali in termini di altre valute valgono di più quindi in sostanza quando il dollaro sale un po' tutti i mercati finanziari ne risentono ma questo nel breve periodo è assolutamente scontato perché c'è l'effetto dovuto al fatto che il dollaro è il denominatore di altri asset se ad esempio andiamo a vedere in questo caso per esempio bitcoin ragazzi prezzandolo chiaramente in dollari ci rendiamo conto che dal 21 di febbraio è in questo trend discendente se andiamo a vedere il dollaro ci rendiamo conto che dalla 30 di gennaio quindi in sostanza un po' prima del 16 bitcoin è in trend ascendente quindi non è del tutto correlato la questione perché è in sostanza dal 30 di gennaio che il dollaro sale quindi da quando bitcoin era qui abbiamo avuto è vero questa gamba ribassista però poi c'è stato comunque un nuovo massimo e un'altra gamba ribassista in sostanza quello che potremmo dire è che la relazione al momento che avviene quando il dollaro sale è di una barra di congestione e questo ci può stare a volte insomma è una logica adeguata ragionare così quindi c'è un po' di difficoltà per l'asset sottostante a salire in questo caso bitcoin ma riguarda anche gli altri asset se andiamo a ragionare il grafico di lungo periodo del dollaro in generale ci accorgiamo di una questione molto importante cioè il dollaro ragazzi dal minimo del 30 di gennaio ha iniziato un nuovo ciclo annuale anche i dollari insomma dollaro sulle varie valute il forex in generale ha anche l'analisi ciclica applicabile questo ciclo però teoricamente ragazzi non dovrebbe essere molto forte questo è in teoria una cosa che dovrebbe dare spazio nel 2023 al fatto che gli asset finanziari potrebbero essere leggermente più tranquilli in termini di valorizzazione del dollaro perché il dollaro non dovrebbe essere poi così forte nulla vieta a questo trend di diventare immediatamente ribassista cioè di invertire un po' così ecco nulla vieta alla... nulla porta al momento questo... questa logica ad essere confermata però c'è una questione legata ai cicli superiori ragazzi questo ciclo che si sta andando a chiudere è un ciclo abnorme dell'euro-dollaro e quindi in generale ragazzi sono cicli molto lunghi vi faccio un calcolo velocemente dovrebbero essere circa... più o meno ragazzi ecco ci siamo ragazzi scusate mi ero leggermente confuso per il fatto che il TF in questo caso è settimanale è stato impostato settimanale sono dei cicli a 15 anni cicli molto lunghi per quanto riguarda l'euro il dollaro in generale verso le altre monete in cui l'euro ovviamente è la sua controparte principale ma in questa zona in pratica l'andamento di questa fase dell'ultimo ciclo appartenente teoricamente agli ultimi 15 anni non dovrebbe avere una gran forza cioè in pratica questo ciclo che vede 15 anni di trend al rialzo per il dollaro nei confronti delle altre monete ragazzi lo voglio sottolineare molti dicono il dollaro sta fallendo non è così è una questione che se voi valutate il dollaro nei confronti delle altre monete questo il grafico ci dice che da 15 anni sale ma se noi valutiamo il dollaro nei confronti di altri asset come ad esempio bitcoin vediamo una cosa differente anche relative alle azioni allora in questo caso da un punto di vista valutario abbiamo un 15 anni di ciclo rialzista per quanto riguarda il dollaro vi faccio vedere il precedente che era del 92 fino al 2008 era stato invece ribassista perché è un ciclo che ha un minimo qui e un minimo inferiore e ha fatto un massimo nella campana centrale un ciclo ternario molto particolare 15 anni di ciclo ragazzi bellissimi allora qui invece abbiamo tutt'altro che un ciclo ribassista perché il ciclo del dollaro è totalmente al rialzo in più soltanto questa struttura ha avuto un ciclo in neutrale diciamo così ma tutti gli altri sono stati totalmente al rialzo ora quest'ultimo pezzettino che è rimasto che va ad essere sostanzialmente un ciclo da circa 3 anni più o meno 100.000 100 giorni deve essere l'ultimo annuale ragazzi e solitamente non è molto forte vi faccio capire anche qui l'ultimo annuale che era iniziato in questa zona per esempio è stato abbastanza debole cioè tutto ribassista ma l'app iniziale l'ha fatto ragazzi ed è durato un po' prima di iniziare a crashare quindi è possibile in pratica che questa fase di azista del dollaro stia andando a creare il suo livello di massimo e questo porterebbe nei prossimi mesi ad avere un po' di tranquillità sui mercati finanziati perché il dollaro dovrebbe fermare la sua corsa e quindi può iniziare a scendere un po' per la chiusura di questo ciclo che tra le altre cose si va a configurare alla fine del 2023 ciò significa che questa fase probabilmente sui mercati potrebbe essere quella più difficile in realtà se andiamo a ragionare in termini di dollaro poi non è detto che il dollaro ragazzi faccia un crash potrebbe tranquillamente fare una cosa del genere cioè quasi un doppio minimo con il precedente innescando il concetto dei mercati cammello appunto per tutto il 2023 ma di questo ne andremo a parlare andiamo a configurare quindi da questo dato ragazzi si evince che questa fase per i mercati finanziari era forse una delle più difficili cioè in termini di dollaro perché il dollaro qui aveva spinto un po' c'era anche la questione legata alla Fed che indica che probabilmente alzerà maggiormente i tassi ma i cicli lunghi soprattutto hanno un po' no? la magia forse di avere dentro anche queste news cioè un pochettino scontate ogni cosa no? e in questo caso potrebbe essere stato proprio così andiamo a vedere invece quello che riguarda il ciclo di Bitcoin contro Nasdaq perché alcuni di voi me l'hanno detto Mauro mi fa paura mi ha detto questo grafico allora Bitcoin contro Nasdaq interessantissimo è in una fase interessante perché ha iniziato un nuovo ciclo annuale con grandissima probabilità il 21 di novembre e probabilmente anche questo indica il ciclo annuale nuovo di Bitcoin e sta andando a chiudere una prima struttura che teoricamente è fatta di una lunghezza ragazzi che va da 140 più o meno a 180 ora qui siamo stati a 84 giorni quindi è possibile che si vada a innescare un 168 che significa ragazzi che ancora questo grafico la possibilità di fare un nuovo app ce l'ha questi sono ancora time frame settimanali quindi teoricamente potremmo andare a fare un nuovo app volevo però oggi farvi vedere una cosa interessante cioè il confronto tra questi cicli attuali e la fase di congestione perché questo grafico ci indica che il mercato è ancora in barra di congestione ed è interessante andarlo a vedere in termini di Nasdaq perché ci dà un grafico di forza relativa anche nel 2015 Bitcoin ha avuto questo stesso atteggiamento e la congestione è durata 140 giorni circa mentre nel 2000 nel ciclo del 2020 questa struttura di congestione è durata di più vedete cioè si è andata a schiodare solo nell'ottobre del 2020 è durata la bellezza di 224 giorni di congestione cioè di ancora non sappiamo cosa sta succedendo qui siamo in una fase molto precoce ragazzi cioè siamo in 112 giorni secondo me ci vuole ancora un po' quindi la fase di barra di congestione o di atteggiamento di Bitcoin che si muove insieme a Nasdaq potrebbe perdurare tranquillamente fino ad aprile maggio anche di quest'anno senza alcun problema perché in teoria andrebbe proprio a innescare il concetto che tutta questa fase è una specie di fase di accumulo nei confronti di Nasdaq però non voglio dire nei confronti del dollar quindi poi andiamo in burranno non è così però è una fase di riflessione del mercato e di ripresa di coscienza e di forza che potrebbe durare un po' di più questo vi spiega anche in maniera molto netta e chiara che forse pensare che da questo livello noi andassimo a breccare questa fase di congestione fosse un pochino azzardato attenzione che non vuol dire che bitcoin non può continuare a salire vuol dire che si muoverà insieme a Nasdaq con le stesse più o meno proporzioni ciò significa che se abbiamo un mercato classico che fa un po' bara di congestione va su e giù non si muove in maniera imponente per via delle politiche anche della fed ragazzi perché come avete visto nella questione di ieri vi ho fatto tra le altre cose un vocale su telegram dove spiegavo un po' quello che era stato il commento all'uscita del dato dello speech di Powell ieri andate ragazzi a iscrivervi sul canale telegram e vi lascio il link in descrizione gratuito ovviamente anche perché stiamo ampiamente implementando quel canale per dare una serie di analisi anche uniche all'interno proprio di quel canale guardate come è virato il grafico che abbiamo visto lunedì da quello che era praticamente un plebiscito di 0.25 per il rialzo del 22 marzo a 80% adesso si attende 0.50 e il mercato oggi ragazzi e ieri ha scontato un dato del genere che è una frustata in fronte ve lo dico in maniera proprio netta e sincera perciò concettualmente questo grafico che stiamo andando a vedere ci dice questa informazione è un po' presto per far sì che Bitcoin si stacchi da questo andamento siamo ancora nella fase di riflessione di respiro di presa di coscienza se questo bear market è finito o meno quindi serve ancora un po' di tempo nelle prossime settimane Bitcoin probabilmente continuerà a muoversi insieme a Nasdaq non facendo niente di estremamente anomalo quindi se Nasdaq salirà probabilmente salirà anche Bitcoin magari in maniera più pronunciata ma comunque non vi aspettate iperimpulsi cioè questo è il concetto magari il superamento dei 25 e 5 se tutto va bene dopo questa fase potrebbe anche arrivare però io non mi aspetto degli impulsi notevoli ragazzi che si parla quindi di iperburrano roba insomma strana andiamo a vedere la dominanza prima di chiudere il video ragazzi non la vediamo veramente da un po' di di tempo la dominanza di Bitcoin che indica tra le altre cose anche una struttura ciclica annuale iniziata pochi mesi fa nel settembre del 2022 sta facendo anche lei vedete una fase mediana cioè probabilmente un ciclo che si chiama ciclo semestrale la metà di un ciclo annuale che dovrebbe poi andare a spingere nella seconda parte quindi ragazzi la dominanza un cammello gigantesco che è iniziato nell'aprile del 2021 guardatelo un cammello gigantesco nell'aprile del 2021 che indica come questo settore è completamente in fase di ristrutturazione dal 2021 quindi questi giochi forza da Bitcoin e le criptovalute alcune che vanno via alcune che falliscono e danno le impennate a Bitcoin stesso vi faccio vedere la questione per esempio qui di maggio palese di Luna il fallimento del progetto Luna guardate tutto ciò che si rigira su Bitcoin c'è adesso anche la questione legata allo stablecoin di BUSD che sarà pian piano praticamente dismessa se non trovano un'alternativa e quindi questa concluirà probabilmente dando maggiore spazio Bitcoin se non concluisce tutta la capitalizzazione nelle altre stable quindi si vedrà un po' questa cosa qui dalla dominance però ragazzi non abbiamo una grande informazione in termini di andamento di Bitcoin bensì in termini di forza relativa con le altre crypto e qui ci dice che da questa fase in poi Bitcoin potrebbe ulteriormente spingere questo un po' e ancora una volta scombina le carte perché significa che in pratica potremmo avere un nuovo impulso di azista su Bitcoin dalla settimana prossima ma deve ancora passare una settimana c'è una settimana diciamo a spazio 10 giorni siamo al 18 dobbiamo arrivare più o meno al 20 di marzo quindi cosa succede dopo ragazzi Bitcoin pompa oppure va giù e le crypto vanno giù di più la dominanza è sempre ambigua nella sua analisi perché non ci dà un'informazione unica però ci dice una cosa questa forza relativa tra Bitcoin e le altcoin si aprirà un pochino probabilmente Bitcoin tenterà di superare il 44% 45% di dominanza spossandosi magari in una zona stile 46 quindi potrebbe essere utile a prescindere magari essere su Bitcoin oppure in stablecoin perché se Bitcoin va giù bisogna stare in stablecoin però magari al di là di crypto minuscole che fanno balzi che la dominanza non importa ragazzi vi ricordo che la dominanza è influenzata esclusivamente da Ethereum e le top 5 6 crypto le altre sono praticamente insignificanti quindi in pratica è un rapporto giocoforsa con Ethereum e un po' di stablecoin poi c'è anche BNB magari ecco però niente di così diciamo variegato quindi magari rispetto alle top 10 potrebbe essere conveniente stare un pochino su Bitcoin e andiamo a vedere allora proprio questo grafico Ethereum BTC così concludiamo diciamo con questa analisi strutturale di questa fase Ethereum BTC ragazzi è un grafico molto strano in questa fase è entrato in questa super congestione in pratica dal febbraio 2021 e si è bloccato cioè scusate maggio 2021 e si è bloccato all'interno di questa super barra di congestione con un eventuale minimo qui che ha fatto solo una chiusura di un ciclo inferiore ma che poi qui siamo in una fase probabile di andare a chiudere un ciclo annuale a maggio cosa significa ragazzi che probabilmente probabilmente un nuovo impulso di Ethereum molto più forte di Bitcoin da tale per cui si vada qui su in questa fase è poco poco probabile ci vuole dopo maggio questo è il significato di questa fase ed è molto interessante andare a vedere soprattutto se lo analizziamo anche in termini di prezzo inferiori cioè se questo rapporto Ethereum BTC dovesse andare sotto lo 0.065 probabilmente si andrebbe in close di questa fase e quindi andremo a chiudere tutta questa struttura ciclica attenzione ragazzi perché questa struttura ciclica è molto rilevante in quanto corrisponde al ciclo da 4 anni di Ethereum Bitcoin cioè il ciclo imponente che è lo scorso fase tra il 2017 e il 2018 aveva creato questa fase discendente ora qui ok per tutti gli amanti dell'ecritto e tutti quelli che pensano nel fallimento di Ethereum il grafico non ci dice questo perché ci dice che questa fase ribassista che nella scorsa fase di Ibermarket era stata potentissima quest'anno non c'è praticamente neanche sta ragazzi cioè praticamente il nulla cioè è una barra di congestione con Ethereum attenzione però dovremmo valutare se sarà la stessa cosa del quadriennio precedente ragazzi questi sono comunque grafici troppo giovani per andare a dire sicuramente sarà così quindi dovremmo valutare però questa zona di maggio potrebbe innescare la fine di questo ciclo e l'inizio di una nuova fase di Burran di Ethereum verso BTC perché tutto quello che è avvenuto in pratica da qui in poi per tutto il 2022 si è esaurito non con una fase fortemente ribassista ma con un trading range io stesso mi aspettavo da maggio 2022 che questo grafico fosse più pericoloso vi dico francamente perché questa zona avendo fatto i massimi poteva fare un crash anche di queste proporzioni quindi non aveva nessuna convenienza a stare non c'era una convenienza a stare su Bitcoin su Ethereum rispetto a Bitcoin in realtà non c'è stato comunque convenienza in questi mesi perché vedete si è assestato al centro quindi era uguale insomma Bitcoin e Ethereum uguale però da qui in poi questa questione cambia perché siamo oltre un anno e mezzo dopo e quindi questa zona qui va attenzionata ragazzi maggio 2023 perché potrebbe proprio innescare una nuova spirale ascendente di Ethereum e attenzione al breakout di questa super barra perché il breakout di 0,90 0,09 per Ethereum o BTC va monitorato perché è un breakout di lungo periodo di una barra di congestione e se confermato in close daily prima settimanale dopo configurerebbe una figura di analisi tecnica che si chiama barra di congestione che corrisponde alla barra di riaccumulazione per una nuova burran di Ethereum a questo punto quindi occhi puntati a giugno maggio-giugno 2023 su questo grafico per oggi è tutto ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa sono un po' tante informazioni ma iper utili proprio per capire dove siamo a che punto siamo con il mercato dell'Ecrito ciao a tutti a tutti